Virna Lisi, un'icona del cinema italiano, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo con la sua bellezza, il suo talento e la sua presenza magnetica. Tuttavia, dietro il suo sorriso incantevole e la sua carriera di successo, si nasconde una storia tragica che ha lasciato un'impronta dolorosa nella sua vita. Virna Piera Lisi, così all'anagrafe, nasce l'8 novembre 1936 a Iesi, Ancona. Nel cinema debutta giovanissima e del tutto casualmente. Il padre Ubaldo, trasferitosi agli inizi degli anni 50 a Roma, conosce Giacomo Rondinella, un cantante, il quale colpito dall'eccezionale figura della ragazza la presenta ad un produttore. Catapultata in men che non si dica in un ambiente che non era il suo, la timida Virna prende parte inizialmente a una mezza dozzina di film partenopei. Da Enapoli canta Desiderio e Sole, da Piccola Santa a Luna Nuova. Nel 1955 le sue quotazioni li evitano grazie ad un remake del celebre Ore 9. Lezione di chimica, che lo stesso Mario Mattoli rivisita nelle diciottenni. Nel 1956 interpreta La donna del giorno, diretta dal giovanissimo Francesco Maselli. La sua bellezza, di una purezza abbagliante, si adatta ai film in costume, come Caterina Sforza, Leonessa di Romagna, 1958, di GW Achili e Romolo e Remo, 1961, di Sergio Corbucci. Lavora anche con Totò in sua eccellenza si fermò a mangiare. Un grande del teatro come Giorgio Streller, e negli anni Sessanta Streller era già un'autorità del settore, la chiama per la parte di protagonista nei Giacobini di Federico Zardi, per il quale ottiene al piccolo di Milano un lusinghiero successo. A teatro lavora anche con Michelangelo Antonioni e Luigi Squarzina, mentre la sua immagine cinematografica cresce fino ad internazionalizzarsi nel Tulipano Nero, 1963, di Christian Jacques, con Alain Delon, ed Eva, 1962, di Joseph Rousy. Chiamata da Hollywood, si muove con disinvolta padronanza di commediante in Come uccidere vostra moglie, 1965, di Richard Queenie, a fianco di Jack Lemmon. Si tratta comunque di un'esperienza limitata, tesa a sfruttare esclusivamente le sue doti di bionda platinata, come confermato dai seguenti U-112 Assalto al Queen Mary, 1965, con Frank Sinatra e due assi nella manica, 1966, con Tony Curtis. All'infelice approdo hollywoodiano fa seguito, nell'arco di tempo che va dal 1964 al 1970, un'attività italiana assai corposa, segnata da alcune indovinate presenze che le consentono di affinare meglio i propri mezzi, soprattutto nel versante di Canovacci connessi all'attualità, le bambole di Dino Risi, con Nino Manfredi, la donna del lago di Luigi Bazzoni, oggi, domani e dopodomani di Edoardo De Filippo, e Casanova 70 di Mario Monicelli, entrambi con Marcello Mastroianni. Sempre splendente nel fisico e nel fresco sorriso, negli anni 70, anche per mancanza di ruoli adatti di donna matura, dirada notevolmente il lavoro cinematografico. Ricordiamo le interpretazioni più acclamate. Al di là del bene e del male, 1977, di Liliana Cavani, Ernesto, 1978, di Salvatore Saperi o la Cicala, 1980, di Alberto Lattuada. A partire dalla metà degli anni 80 Virna Lisi si rilancia grazie ad alcune significative prove offerte ai sceneggiati televisivi, se un giorno busserai alla mia porta, e non se ne vogliono andare, e se poi se ne vanno, i ragazzi di Via Panisperna, ovestaccandosi dal cliché della donna troppo bella per essere vera, a modo di esprimere appieno una nuova personalità ed un'indubbia maturazione artistica. Su questa linea si pone anche l'esemplare ritratto di madre e nonna ancora giovane, schizzato sotto la guida di Luigi Comencini in Buon Natale, Buon Anno, 1989, che le porta il nastro d'argento. Con l'interpretazione di Caterina de' Medici nella Regina Margot, 1994, di Patrice Chero vince il nastro d'argento ed il premio come miglior attrice a Cannes. Seguono va dove ti porta il cuore, 1996, la miniserie tv Deserto di Fuoco, 1997, e di film TV Cristallo di Rocca, 1999, e Balzac, 1999. Tra i suoi ultimi lavori, Le ali della vita, 2000, con Sabrina Ferilli, Un dono semplice, 2000, con Marry Abram, Il più bel giorno della mia vita, 2002, con Margherita Bui e Luigi Locascio. Nel 2013 muore la persona con cui ha passato un'intera vita, il marito Franco Pesci, architetto ed ex presidente della Roma Calcio. Da lui Virnalisi ha avuto un figlio, Corrado, nato nel luglio del 1962 e che l'ha resa nonna di tre nipoti, Franco, nato nel 1993 e di gemelli Federico e Riccardo, nati nel 2002. È deceduta il 18 dicembre 2014, lasciando un'eredità a duratura nel cinema italiano e internazionale. La sua bellezza, il suo talento e la sua personalità affascinante continueranno a vivere nei ricordi dei suoi ammiratori e nelle opere che ha lasciato dietro di sé.